buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra storia della call for craft oggi abbiamo il piacere di avere giuditta picchi e barber reynard della fondazione studio marangoni grazie di essere qui e buongiorno allora giuditta tutti occupi di amministrare il la fondazione e invece barbel tutti occupi della parte di formazione dei ragazzi e del coordinamento didattico innanzitutto giuditta raccontaci il diciamo la mission della della fondazione la fondazione compie quest'anno trent'anni di onorata attività si occupa di fotografia e la mission da sempre della fondazione è proprio la diffusione della cultura fotografica in italia poi abbiamo anche collaborazioni internazionali ma fondamentalmente è da firenze che questo progetto è partito qualche anno fa ormai e che continua a portare avanti un ideale di formazione di la cultura fotografica prevalentemente con il suo ormai storico corso triennale eh che ha visto uscire diversi fotografi oggi pluripiemati e pluri acclamati e in questo caso eh noi siamo qui a lavorare insieme a collaborare a questo progetto perché siamo convinti che fare rete fare rete sul territorio e permettere anche ai nostri studenti di confrontarsi con realtà professionali eh artigianali li permetta di crescere in un progetto formativo dove sì loro stanno imparando e sono informazione ma il contatto con realtà economiche piccole e medie e anche grandi li permette poi di arrivare al nel mondo del lavoro nel mondo del nel mercato del lavoro con un'esperienza già fatta nel percorso formativo e quindi acquisire un linguaggio nuovo. Eh infatti hai toccato il punto Giuditta nel senso che il il percorso che faremo insieme nella Call for Craft permetterà ai dodici artigiani che eh saranno selezionati in questa call di fare un un viaggio diciamo così insieme ai ragazzi della scuola per la eh la realizzazione di quelle che serve che sarebbe un servizio fotografico dei loro eh dei loro oggetti ma in particolare per fornire cultura e conoscenza l'obiettivo che ci siamo prefissi nel creare questa questa partnership è proprio quella di mettere insieme diverse generazioni. Eh Barbel raccontaci un attimo nel nel percorso i ragazzi perché poi è importante ricordare che appunto questi ragazzi sono professionisti che andranno a supportare gli artigiani e quindi a dargli una visione un occhio una capacità di lettura che per quanto l'artigiano sicuramente è bravissimo nel suo eh nella sua arte appunto di realizzare i suoi prodotti ma l'importanza di avere accanto un professionista formato in un modo specifico fa tutta la differenza. Noi viviamo in un mondo dell'immagine e l'immagine oggi racconta tutto c'è un social network Instagram che comunica solo per immagini quindi avere qualcuno innanzitutto che ti consiglia e i ragazzi consiglieranno il miglior modo ma soprattutto che sa realizzare le cose questo è il percorso che fate fare ai ragazzi proprio nel nel loro percorso triennale di formazione. Esattamente. Eh i nostri studenti saranno affiancati a questi eh artigiani e svilupperanno insieme proprio un progetto cioè ehm oggigiorno tutti fanno fotografie come dicevi te giustamente siamo inondati proprio ehm di un mondo di fotografie ognuno fa fotografie col cellulare però quello che deve distinguere nel mondo anche del linguaggio visivo è proprio la qualità non solo della singola foto ma proprio di ehm avere una capacità di creare una storia di narrare attraverso l'immagine e questo è un po' che ehm trasmettiamo anche ai nostri studenti fin dall'inizio il corso triennale è strutturato così che ehm interdisciplinare ehm praticamente loro ehm hanno anche delle basi importantissimi ehm della storia della fotografia della storia dell'arte del video del cinema della letteratura perché è importantissimo di avere proprio una cultura che poi possono applicare sui progetti fotografici ehm in questo no scusami volevi dire una cosa. No prego verrà molto interessante perché quello che stavi mettendo in luce è proprio è la differenza di discutiamo prima del professionista cioè il professionista sviluppa la sua capacità di visione grazie ad un percorso quindi conoscendo i maestri della fotografia sperimentando in un certo senso così come l'artigiano dal suo punto di vista è il professionista della sua arte l'ha sviluppata nel corso del tempo confrontarsi confrontandosi con altri artigiani con la storia dei prodotti che fa lui o comunque altre eh altri incontri e il lavoro che facciamo è proprio far incontrare professionisti. I ragazzi sono professionisti in erba e quindi hanno bisogno di di scoprire come ci si relaziona un cliente, come si sviluppa un progetto e come si comunica in maniera più corretta il questo scambio così come gli artigiani hanno questa grande possibilità di entrare in contatto con un altro professionista di un altro settore perché poi in realtà anche il fotografo è un artigiano, è un artigiano della luce potremmo dire, no? Sì esattamente, poi la nostra scuola è abbastanza piccola, abbiamo un numero chiuso quindi noi ci vediamo un po' anche come un laboratorio, quindi forse anche qui c'è un parallelismo perché per noi è molto importante proprio l'individualità, questo come anche nell'artigianato, no? di creare proprio oggetti unici, originali e avere proprio un taglio, diciamo, personalizzato questo anche nella formazione noi lo applichiamo sui nostri studenti per poter dopo distinguersi dalla grande massa e credo che sia importante anche nella collaborazione con gli artigiani di poter sviluppare insieme è proprio una forma di storyboard e poi i nostri studenti porteranno tutta la loro professionalità che hanno acquisito finora, che va dalla giusta illuminazione ma anche proprio alla, diciamo, creazione di un mood cioè perché è quello che secondo me è più importante del prodotto in sé non stiamo creando, diciamo, degli immagini di oggetti per un e-commerce ma vogliamo proprio raccontare la filosofia di ogni singolo artigiano e come si approccia al materiale e anche alla sua arte Quindi, Giuditta, sarà un percorso di conoscenza dei ragazzi in cui poi ci sarà una sorta di matching fra l'artigiano e il ragazzo e poi di scambio fra di loro? Esattamente, quello che a noi ci è interessato fin da subito di questa collaborazione è l'idea di innescare un processo generativo cioè mettere insieme due realtà, seppur diverse in un incontro prima di tutto umano è vero, i giovani sono in un percorso di formazione gli artigiani anche sono in un percorso di formazione con storie diverse innescare questo percorso affinché, proprio come diceva giustamente Berbel l'idea del processo creativo quindi un'idea, come nasce un'idea come si media questa idea quando siamo in due a parlare quando c'è da una parte il cuoio, dall'altra la luce da una parte la meccanica, dall'altra la grafica come si innesca questo processo generativo è lì che per noi sta la scintilla cioè il valore aggiunto di un progetto del genere e quindi poi i ragazzi quando avranno fatto questo percorso si potranno recare anche alla sede dell'artigiano proprio per narrare questa storia e quindi entrare infatti hai detto una cosa molto importante secondo me Berbel nel puntualizzare che non sono foto per e-commerce ma è qualcosa di più alto che vogliamo realizzare con questo, come dicevi tu Giuditta incontro generativo che non è la semplice foto del prodotto da mettere su un sito di e-commerce o online ma è un percorso in cui si va a tirare fuori l'essenza dell'artigiano che è ben diverso da fare appunto la foto sul cellulare e postarla online ed è anche, come vi dicevo prima secondo me, la comprensione dell'importanza di affidarsi a un professionista per certe cose perché oggi siamo tutti fotografi fai da te ma quando si entra in contatto con un professionista il mondo cambia e quindi anche per noi raccontare questa storia vorrà dire poi far vedere come cambia il mondo quindi chiaramente tutti i lavori dei ragazzi li pubblicheremo online li faremo vedere e diventerà un'altra storia narreremo anche questa storia si incontrano due autori praticamente l'artigiano e l'autore della luce quindi che possano creare insieme un progetto molto bello in effetti proprio mentre stavamo progettando questo percorso con Verbel abbiamo anche pensato a un finale di questo percorso in cui ci sarà una restituzione collettiva i ragazzi insieme agli artigiani racconteranno a noi che cosa è emerso da questo match come lo chiamavi tu proprio in un'ottica di una qualità narrativa ecco questo penso sia anche l'altro punto centrale di questo progetto cioè trasmettere quella percorso che dicevamo prima quel percorso generativo che si trasforma in una qualità narrativa magari sono oggetti come principale soggetto della nostra narrazione ma magari invece sono gli artigiani stessi le loro storie o il loro ambiente anche lì non ci vorremmo limitare soltanto alla produzione singola dell'oggetto ma a tutto quello che può stare intorno alla produzione dell'oggetto sì credo che sarà un'esperienza veramente bella e interessante io non vedo l'ora di iniziare anche perché la mia fortuna è che come coordinatore poi io potrò essere presente in ognuna di queste realtà e vivere queste storie che poi è anche l'aspetto più bello mi facevi pensare Giuditta all'idea di documentare non solo il risultato finale ma anche tutto il percorso e quindi io appunto sono abbastanza appassionato di video, interviste e queste cose sarebbe bello poi renderlo in quel ritorno di cui parlavi proprio un video che narri per immagini tutto quello che è successo sarebbe una bella cosa e lo vedremo, lo scopriremo facendolo perché siamo vicini alla fine ora della call e poi faremo la selezione e partiremo con questa bellissima esperienza vi ringrazio molto grazie di questa condivisione perché abbiamo fatto vedere uno spaccato molto importante e molto bello di quello che avverrà nella Call for Craft grazie a te a presto a presto ciao grazie a te